Come è cambiato il mercato dell'advertising? Il mercato dell'advertising è cambiato principalmente per due fattori. Uno è il fattore della tecnologia e uno è il fattore del digitale. In Italia è cambiato anche in seguito alla crisi economica che ha portato a una riduzione degli investimenti da 10 miliardi a 7. In questi 7 miliardi quasi il 20% viene preso da due nuovi player che si chiamano Google e Facebook, sono stime dall'UVP perché i dati ufficiali italiani non esistono e di conseguenza gli altri player hanno dovuto fare i conti con questa nuova realtà. Positivo c'è che quest'anno finalmente i grandi editori italiani hanno dato un segno di vita facendo una serie di operazioni, quelle della stampa facendo accorpamenti, escalate e acquisizioni, quelli della televisione, in modo particolare ho citato Mediaset, ma la stessa RAI, la stessa Sky, la stessa Discovery, hanno fatto investimenti per andare nella direzione di rispondere a queste due grandi realtà Google e Facebook. Anche a livello di carta stampata ci sono stati dei movimenti importanti. Esattamente, anche la carta stampata, prima l'operazione l'Espresso e i Tedi, poi l'operazione dell'acquisizione da parte del Cairo del gruppo RCS e ultimamente abbiamo letto dei CDA tumultuosi del Sole 24 Ore che porteranno sicuramente anche qua qualche risultato. Sappiamo di un piano industriale che del Torchio sta faticosamente portando avanti e dovrà portare il Sole 24 Ore a essere in forma migliore rispetto ad adesso. Prima che vada avanti, questa reattività da parte del mondo della comunicazione, reattività dovuta a un'eccessiva passività prima o ci vede dei piani, una strategia perché c'è finalmente una consapevolezza? Cioè è una forma di difesa o è attacco? Secondo me sono entrambe le cose, non perché voglio erudire la domanda. Sicuramente c'è stata una fase prima in cui è venuta talmente velocemente l'arrivo digitale e della tecnologia che i gruppi non hanno saputo rispondere, hanno preso le misure e hanno cominciato anche loro a dare delle risposte. Le risposte comunque sono quelle di passare sempre di più da una comunicazione di massa a una comunicazione di precisione, sempre più al target, genericamente inteso, ai consumatori conosciuti e presi uno per uno consegnando a loro la velocità pertinente nel momento giusto, nel posto giusto. Con questo scenario che ha descritto cosa fa WPP? WPP cerca di supportare i suoi clienti nel percorso a 360 gradi nel mondo della comunicazione gestendo e cavalcando questo cambiamento. Quindi diamo servizi in questa direzione e come ho detto che riguarda soprattutto il mondo della formazione cerchiamo di portare questa cultura digitale presso i nostri clienti. lo facciamo sia nel mondo delle serie creative, lo facciamo sia nel mondo delle ricerche con Cantar e lo facciamo nel mondo delle media con GroupM e lo facciamo nel mondo delle PR. In realtà sempre di più anche la WPP non sarà una serie di silos verticali ma sarà sempre di più un gruppo unico, un gruppo orizzontale che offrirà soluzioni integrate ai propri clienti. Grazie. Grazie a lei.